Feder Carrozzieri è impegnata a livello nazionale in una campagna di informazione dell'automobilista affinché esso viaggi sicuro. Viaggiare sicuro inteso non come sicurezza, come cura e manutenzione dell'auto, ma anche come procedure da rispettare in caso di sinistro. Quanti di noi è capitato di non sapere compilare un CID? Cosa fare in caso di sinistro? Cosa fare se ci sono più di due a due coinvolte? C'è tutta una serie di informazioni utili a non incappare in errori. Partiamo da Bolottana e partiamo dalle piccole comunità perché crediamo che in queste comunità ci sia il rapporto fiduciario tra clientela e carrozziere che da sempre distingue le nostre attività artigiane e che in qualche modo le compagnie assicuratrici vogliono scardinare.